Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Vardanno, 365 giorni l'anno, fa manutenzione ordinaria nei propri corsi d'acqua, pur tenendo conto da una parte delle disposizioni di legge che tutelano la vi fauna presente lunghi corsi d'acqua, ma soprattutto tenendo conto dei ritmi naturali e biologici che appunto la natura ci impone. Per far questo il Consorzio di Bonifica ha adottato delle buone pratiche per non disturbare i momenti di riproduzione di questi animali. Si parla anche di taglio delle piante e di rimozione di sedimenti. Quando rimuoviamo i sedimenti facciamo grande attenzione alla presenza dei pesci all'interno dei nostri corsi d'acqua, tant'è che molto spesso, prima ancora di entrare con i mezzi in acqua, in collaborazione con delle associazioni, rimuoviamo i pesci presenti. Oltre che della fauna presente lunghi i nostri corsi d'acqua, ci occupiamo anche della flora presente. Soprattutto quando siamo di fronte a specie di particolare pregio, anche dal punto di vista presaggistico, prima di intervenire con dei tagli, facciamo delle verifiche specifiche proprio per verificare lo stato di salute delle piante stesse. Mentre invece mettiamo particolare forza e particolare impegno nel contrasto alla presenza di specie all'octone che purtroppo rischiano di infestare alcuni dei nostri corsi d'acqua. Quindi la manutenzione ordinaria che noi facciamo spesso presenta anche delle difficoltà legate proprio alla conformazione morfologica del territorio. In alcuni punti è difficile proprio arrivare in alveo, per cui ci dobbiamo inventare delle strategie funzionali proprio all'intervento. In alcuni casi arriviamo direttamente dall'acqua attraverso dei barchini. Molto spesso utilizziamo la professionalità di alcuni dei nostri operai attraverso il tri-climbing. E casi veramente particolari, l'abbiamo fatto una sola volta, abbiamo portato del materiale per consolidare delle briglie in alta montagna direttamente con l'elicottero.